Sai cos'è la DRML? La Direzione Regionale Musei Lazio è impegnata dal 2014 nell'attività di valorizzazione del patrimonio storico-archeologico laziale disseminato tra mari, montagna, campagna e centri urbani. Un incomparabile complesso di siti testimoniano la storia della civiltà occidentale, dall'epoca pre-romana alla Roma imperiale, dal Medioevo fino al Rinascimento e all'età moderna, rendendo la DRML custode di un patrimonio artistico incommensurabilmente ricco e affascinante. Monumenti, aree archeologiche e musei compongono i 30 luoghi della cultura che la Direzione coordina e promuove, garantendone l'accesso e la fruizione a tutti.